Ovviamente c'era l'avventura della settimana scorsa, però ovviamente essere qui e vincere in casa è una cosa molto importante per noi, siamo molto rienti. Ovviamente rimangono tre partite, la cosa più importante è che il Como adesso gestisce il suo futuro, decidiamo noi se andiamo in C direttamente o no, siamo molto contenti con il risultato oggi.